Mi chiamo Roberto Pirruccio, sono di Brugherio e oggi, guarda caso, è partito un italiano a Villadei per lo spazio, un italiano che porterà l'Italia al di là dei confini dello spazio e io vi voglio raccontare la storia di come è iniziato il volo sul nostro territorio, sul territorio italiano. Dovete sapere che nel 1783 in Francia, Danone, i fratelli mongolfier che non hanno mai volato, tra l'altro, il padre gli aveva vietato assolutamente di volare su quelle macchine infernali, la macchina volante, però avevano costruito per la prima volta un aerostato e per la prima volta un mezzo più pesante dell'aria si era innalzato nel cielo e aveva conquistato anche l'aria. Pochi mesi dopo, e precisamente il 13 marzo del 1784, in località Moncucco di Brugherio, un nobile milanese ripete questa impresa sul territorio italiano, quindi è considerato il primo volo al mondo fuori dal territorio francese. deteniamo il record come secondi arrivati, però è un buon risultato. Chi ha fatto questa impresa? Un ragazzo che non aveva compiuto ancora 21 anni, era un nobile, orfano di padre e di madre, con un fratello che lavorava per lui, era un bravo studente, aveva studiato in un convinto a Parma ed era molto bravo dal punto di vista scientifico e saputo di questo volo compiuto dai fratelli Mongolfier in Francia, ha voluto ripetere l'impresa sul territorio italiano. Presto detto i soldi non gli mancavano, il fratello Gian Mario contribuiva notevolmente alle sue spese pazze e lui contatta degli artigiani milanesi, precisamente i fratelli Gerli che erano artigiani rinomati nelle famiglie nobili milanesi, tappezzieri, falegnami, li contatta e gli dice che vuole costruire una macchina volante, che potesse portare tre persone e che se la macchina volante riusciva a compiere l'impresa, lui pagava totalmente il costo di questo aerostato. Se invece non avrebbe volato, metà del costo di questo aerostato sarebbe stato a carico dei fratelli Gerli. I Gerli accettano di buon grado perché vedono chiaramente l'opportunità di avere una buona entrata da buoni milanesi, costruiscono questa macchina, io chiamo macchina aerostato, non la chiamo mongolfiera perché la macchina era una macchina volante, a quei tempi non si chiamava mongolfiera, mongolfiera l'han chiamata quando i fratelli mongolfier sono morti e di conseguenza per ricordarli han chiamato mongolfiere, ma la macchina volante in se stessa è un aerostato. Lui fa costruire questo aerostato e decide di volare nella città dove abita, precisamente lui abitava a Milano, in centro, Palazzo Andreani, era un palazzo famosissimo di una famiglia facoltosa milanese che poi si imparentò coi Sormani e chiede chiaramente la possibilità, il permesso al plenipotenziario milanese che in quel periodo era sotto la dominazione austriaca ed era il conte Wilczek, era praticamente il governatore della città di Milano, chiede la possibilità di poter volare sulla città, di compiere questa impresa. Il governatore gli vieta assolutamente di volare con una macchina di fuoco sui cieli della città, visto che c'erano anche case di legno, polveriere, fienili, andavano i cavalli e quindi di conseguenza era pericolosissimo. Da buon seguace di Maria Teresa d'Austria chiaramente gli vietò assolutamente di compiere questo tipo di impresa sulla città di Milano. lui non si perse d'animo, aveva una bellissima villa stile barrocchetto a Brugherio in località Moncucco e decide di compiere l'impresa in questa villa, nel giardino della villa di Moncucco e quindi deve decidere anche la data e la data chiaramente gli viene suggerita dal fatto che in quel periodo il figlio di Maria Teresa d'Austria, guarda caso, in quel periodo era in visita a Milano nel regno Lombardo-Veneto che faceva parte del regno austriaco e quindi decide di compiere l'impresa il 13 marzo anche perché era il compleanno dell'imperatore e quindi invita l'imperatore a partecipare a questa manifestazione. Riceve una lettera dal conte Wilczek, il quale dice che il padre del popolo, l'imperatore, non poteva sicuramente assistere ad un'impresa così temeraria che poteva recare danni e poteva essere pericolosa per lui e per la popolazione. pazienza, lui decide di volare lo stesso, invita tutti i nobili di Milano, Monza ed intorni e la mattina del 13 marzo le cronache dell'epoca raccontano che a Milano non si trovava più una carrozza da poter utilizzare e tutte le carrozze avevano preso la via orientale da porta Venezia per venire verso Monza fermandosi nella villa di Paolo Andreani. Lui aveva fatto predisporre un palco per le autorità, per tutti i suoi curiosi, gli amici, i nobili e aveva permesso l'ingresso anche al volgo, ai contadini, alle persone curiose che volevano assistere a questo avvenimento. Ma non solo, aveva anche preparato vivande e viveri per tutti, quindi c'era formaggio, salumi, pane, vino, acqua zuccherata, limonata e c'era anche una bellissima novità per il popolo ed era la cioccolata, che era una bevanda nuova che da poco veniva utilizzata nelle varie famiglie nobili e nei vari caffè in Francia e a Torino in particolare. Precisamente il 26 di febbraio, con i fratelli Gerli, lui parte con la mongolfiera, con l'aerostato dal giardino per vedere se volava, l'aerostato si alza ma non libero, ancorato con delle corde che venivano tenute dai contadini e vola per qualche centinaio di metri col vento, dopodiché viene riportato con le corde all'interno, quello è stato il primo volo, praticamente il collaudo e i fratelli Gerli notano che il mezzo era troppo pesante, quindi è stato ulteriormente alleggerito dal progetto che era stato fatto, quindi alleggerito dovrebbe volare, verso mezzogiorno deve partire e guarda caso doveva essere accompagnato dai fratelli Gerli, i fratelli Gerli invece quel giorno lì, di mattina presto si erano eclissati, erano ritornati a Milano, le motivazioni possono essere facilmente deducibili, il conte Wilczek non voleva che questo giovane scavezza collo, ricco, nobile però, potesse compiere queste imprese e volare con un mezzo più pesante dell'aria e quindi aveva praticamente intimato i fratelli Gerli, li aveva praticamente spaventati e gli ha detto se voi aiutate Andreani a volare, io non vi faccio più lavorare a Milano e loro chiaramente con la paura di perdere il lavoro si erano eclissati, allora lui non si perde d'animo, prende due operai che avevano collaborato con i fratelli Gerli per la costruzione di questa macchina volante, uno si chiamava Gaetano Rossi e l'altro si chiamava Giuseppe Barzago, per indurli e per non avere preoccupazioni di nessun tipo, gli fa bere del buon vino francese, questi se lo bevono in modo avidamente e più ubriachi che sobri salgono su questa macchina volante non si rendono nemmeno conto di quello che stanno facendo, però sapevano che dovevano aiutare il conte a mettere la legna nel bracere, a spegnerla con delle spugne bagnate, insomma c'era tutto un lavoretto, non c'erano certamente i motori che ci sono adesso, veniva alimentato con della legna, con del catrame e quindi tutto ciò doveva essere alimentato da alcune persone che potevano salire la scaletta, aveva fatto mettere un bracere di rame che serviva per mettere dentro la legna e per scaldare l'aria. Gonfiano il pallone, questi due operai inconsapevi, ubriachi ormai fradici, salgono su questo cestone, un cestone tondo tra l'altro, non quadrato come li fanno adesso, salgono, il caro nobile Paolo Andreani con la sua tromba che era il microfono di allora, era l'amplificatore, la tromba sarebbe quel cono che veniva utilizzato anche sulle navi per dare gli ordini, ordina che vengano tagliati gli ormeggi, cioè le corde che tenevano ormeggiato, ancorato diciamo che è più giusto, questo aerostato. Vengono tagliate le corde e il pallone gonfio e bello pieno d'aria calda si innanza nel cielo tra la meraviglia di tutte le persone che stanno assistendo a questo fatto così importante. Tenete conto che non avevano mai visto nulla, oltre agli animali, gli uccelli che volavano, non avevano mai visto nulla, un uomo che potesse volare nel cielo, era una cosa fuori da ogni logica mentale, fuori da ogni pensiero e invece questo aerostato si alza, si alza, si alza, si alza, va oltre mille metri, dopodiché sparisce tra le nuvole, sparisce tra le nuvole e il vento lo spinge verso Caponago. Decide di atterrare, atterrare, una bella parola per chi l'ha fatto, ma per chi non ha mai atterrato, era una novità anche atterrare, non era mai stato fatto l'atterraggio. Quindi tra problemi vari dove fuoco, acqua, fuoco, acqua, il fuoco per frenare la discesa, l'acqua per frenare se per caso l'aerostato continuava a volare, insomma riescono a scendere in una località che si chiama Cascina Seregna, che ancora esiste e il caso vuole che il cestone nella caduta, in questo atterraggio, ma sarà stata una caduta abbastanza violenta, urtò violentemente la cima di un gelso e le croniche dell'epoca dicono che quelli della, che lo videro scendere perché dalla Cascina chiaramente uscirono i contadini, le donne, vedevano sta cosa come se arrivasse i marziani, come se arrivasse qualcosa che non avevano mai visto, arrivava dal cielo, dicevano ma chi sono questi? Urtando, ruppe il gelso. Il gelso in dialetto milanese viene chiamato Murun e guarda caso i contadini per ricordare questo fatto dicevano il balun del Murun, che era questo fatto particolare che è accaduto veramente e che è stato anche documentato poi dal giornale Aerostatico e da tutta una serie di documentazioni di quel periodo che seguirono questo avvenimento, che era una novità e che supportava la nuova filosofia che era l'illuminismo. L'illuminismo era seguito da personaggi che volevano e credevano che tutte le cose dovessero essere provate, quindi erano contro le vecchie tradizioni o superstizioni, tutte le cose di cui si parlava devono essere comprovate e si guardava chiaramente anche verso il popolo in un modo diverso da quello che era stato fino allora, dove i nobili chiaramente imponevano vessazioni non poco dignitose nei confronti dei contadini. Questo Paolo Andreani atterrò e a quel punto lì si fece prestare un cavallo da questa località di contadini che avevano anche degli animali e col cavallo ritornò galoppando alla villa di Moncucco. La villa di Moncucco viene accolto come un eroe, l'Icaro, il nuovo Icaro che aveva solcato i cieli in Italia, venne festeggiato, anzi fecero anche una grande manifestazione dove il Parini scrisse un'ode particolare a questo nobile volante e fecero anche una manifestazione al teatro alla Scala di Milano dove venne osannato e chiaramente venne scritto in tutte le cronache di quel periodo. Questa è la novità, oltrepassò i confini, quindi arrivò in Francia, arrivò in Olanda, arrivò in Inghilterra. Tant'è vero che Andreani dopo questo volo compiuto, depositò questo aerostato nel soffitto della villa Andreani Solmani e incominciò una vita diversa, quella del viaggiatore, quella dell'esploratore, quindi viaggiò in tutte le corti europee, venne accolto in Inghilterra dal National Geographic Academy e venne invitato nelle varie corti reali europee. Tanto per farla breve viaggiò anche in Canada dove solcò, risalì grandi laghi con delle canoe, scrivendo anche e traducendo anche i dialetti delle comunità indigene che incontrava in dialetto milanese, strano ma vero. Dopodiché si recò anche negli Stati Uniti dove ebbe l'opportunità di conoscere il Presidente degli Stati Uniti, Adams, Benjamin Franklin, abitò per molto tempo a Boston, che era una città dopo la liberazione dagli inglesi, era una città molto famosa. Tanto è vero che un mio amico brugherese, precisamente il Dottor Giuseppe Sardi, il quale nel 1984 assistette ad un volo compiuto a Brugherio per celebrare la nascita dell'aviazione italiana e il bicentenario della prima ascensione compiuta sul territorio italiano. Era un ragazzino, vide questo volo, si informò cosa era successo e si incuriosì in un modo così tanto profondo che a lungo andare a scuola e poi negli studi e poi all'università ha approfondito ulteriormente la storia di questo nobile, il quale ha tutta una sua storia particolare, questo Paolo Andreani era una personalità conosciuta a livello mondiale e tra l'altro era anche un gaudente. Giuseppe non ha fatto nient'altro che cercare di seguire il percorso che Paolo ha fatto poi nella sua vita, quindi è stato in Francia, in Inghilterra, in Canada, a Boston, dove nella biblioteca ha riscoperto tutta una serie di documentazioni che parlavano di Paolo Andreani e Paolo Andreani era un personaggio sicuramente di quel periodo molto 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 gaudente, i soldi non gli mancavano e quindi era solito magari andare nella Repubblica Veneziana a giocare al casino, magari avrà anche incontrato un Giacomo Casanova, era lo stesso periodo goldoniano, in più gli piacevano le donne in un modo particolare e si era innamorato pazzamente di una ballerina artista che lavorava nei teatri. Si recò in Francia con il suo maggiordomo il quale teneva contatti stretti del conte Paolino con il fratello, lui ormai si era allontanato dalla famiglia e viveva di una rendita che il fratello gli elargiva e questa rendita non gli bastava mai perché se gli arrivava 10 lui ne spendeva 15. Era quel classico nobile spendacione, ma spendacione grosso. Tanto è vero che finiti questi viaggi che fece in Canada, in America, nel Centro America e forse anche in Sud America, ritornò a casa ma non poté ritornare a Milano perché aveva così tanti debiti che purtroppo era inseguito dai debitori. Invece si stabilì in una cittadina costiera del mare e precisamente a Nizza dove a un certo punto finì la sua vita e la sua esistenza. La sua vita finì e finì anche la dinastia degli Andreani perché il fratello Gianmarco aveva sposato una nobile milanese che era la Sormani, la famiglia Sormani, ma ebbe come eredi solo delle femmine. Quindi Paolino e Gianmarco che morì prima praticamente non ebbero eredi maschi e quindi tutti i possedimenti, tutte le proprietà della famiglia Andreani passò sotto la nobiltà dei Sormani. Loro abitavano a Milano in via larga praticamente dove c'è la biblioteca Sormani, dopo il tribunale. Quello era il loro palazzo che poi è stato chiaramente adibito a biblioteca. Tra le cose interessanti, un'ultima cosa interessante che vorrei fosse messa in evidenza è che il caso vuole che quando i fratelli Gerli costruirono questo aerostato, per poter alimentare l'aria calda che permette all'aerostato di volare, dovettero attaccare un braciere sotto la bocca dell'aerostato, un braciere di rame. Questo braciere di rame sembrerebbe, e non è lontana l'ipotesi, il fratello comprò dopo la caduta di Napoleone un tempietto in Svizzera, praticamente a Lugano, che è il famoso tempietto di Moncucco, che era diventata la cappella di famiglia. E questo tempietto, che ancora esiste di fianco alla villa Andreani Sormani, è di stile palladiano, un tempietto molto piccolo, con una cupola, con una cupola che è ricoperta di rame. Le cronache dell'epoca, siccome a quei tempi là non credo venisse buttato via nulla, o veniva comunque riutilizzato, sembrerebbe che il rame che era stato utilizzato per fare il braciere, sia stato poi lavorato per coprire la cupola. Quindi in un modo molto strano, ma però reale, guarda caso quel rame lì guarda ancora verso il cielo. Grazie.